Si dice marzo sole guazzo o marzo pazzerello guarda il sole prendi l'ombrello e mai i proverbi popolari sono stati più azzeccati. Dopo la parentesi di primavera che ha portato temperature miti in tutta l'isola durate un paio di settimane, dopo che con gaiezza abbiamo abbandonato negli armadi piumini, maioni e sciarponi, ebbene l'inverno è tornato a fare capolino sull'isola. Crollate repentinamente le temperature, il termometro è sceso in picchiata passando dagli oltre 20 gradi registrati nei giorni scorsi agli 8 gradi centigradi, contrassegnati dai termometri stamattina. Un colpo di frusta l'abbrammata primavera, colpevole sarebbe stata una perturbazione nordatlantica che oltre al calo delle temperature ha portato rovesci e forti raffiche di vento. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Cos'è successo stanotte nel Catanese? Se diciamo che le nostre squadre sono state impegnate con svariati interventi come cartelloni pubblicitari diverti, impianti semaforici, tetti scoperchiati, diciamo che è stata una nottata abbastanza movimentata. Purtroppo le esigue squadre, le poche squadre che abbiamo in servizio sono state tutte impegnate fino alle prime ore dell'alba. Ancora oggi sono rimasti interventi nevasi che stiamo completando con quelle risorse che abbiamo perché purtroppo quotidianamente chiudono le sedi di servizio a causa della carenza di organico. Le raffiche hanno spazzato via alberi, antenne, scoperchiato tettoie, soprattutto nelle zone più prominenti. Danni si sono segnalati anche alle colture, in modo particolare ai vigneti, numerose leverande che hanno rischiato di finire per strada e le aree messe in sicurezza dai pompieri. Diciamo che ieri sera sono stati danni relativi perché sono stati, come ripeto, impianti pubblicitari, forse c'è stato un palo su una macchina, ma non sono stati interventi di rilievo che hanno colpito la popolazione o persone in particolare. La zona delle nese stamattina si è svegliata in biancata, sotto un manto di neve. A Troina il comune ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, compreso l'asilo nido. A Scordia si è sfiorata la tragedia a causa della caduta di un palo della rete di illuminazione pubblica in via Matteotti, come documentato dalle immagini di Scordia Info, crollo che ha danneggiato solo un'autovettura parcheggiata nei pressi di un supermercato. Pericolo anche per le strade ghiacciate a causa dell'abbassamento delle temperature. Inoltre le forti raffiche di vento hanno raggiunto anche 60 km orari, creando disagio nei collegamenti marittimi e l'isolamento delle sette isole dell'arcipelago delle Olie. Il mare mosso Forza 6-7 non ha permesso da ieri pomeriggio ad Aliscafi a Traghetti di viaggiare. Rifugiate nella rada di Lipari anche due navi cisterne e mercantili.